Poracci, avete visto che bibite violente? Non le fanno più le conquiste di una volta. Io è stato rapidissimo nel riconoscere Super Drink Bros, mentre con le risposte sbagliate vi siete scatenati. I picchi più alti e a tema li abbiamo toccati con The King of Sodas e Tech Can 2. Ma complimenti a tutti, mi avete fatto spaccare. Però andiamo avanti, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche al di fuori del Giappone. Oggi ho deciso di sbilanciarmi e affermo che questa puntata sarà ricchissima. Me lo sento. Parleremo di alcune problematiche sollevate dal nuovo trailer di Mario Strikers Battle League, di un comodo modo per organizzare gli sconti su eShop e risolvere così uno degli aspetti più frustranti di Switch e finalmente parleremo anche di novità riguardanti Final Fantasy XVI. Prima di iniziare però vi invito ad allontanarvi da quella rete elettrificata e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Sapete qual è la domanda che mi fate più spesso? Zelda preferito? Escuso quello, in continuazione mi chiedete se ci sono novità riguardanti alle versioni Nintendo Switch di Fall Guys e Genshin Impact. Purtroppo non posso ancora rispondere a queste domande ma sono qua per dirvi, non mollate la speranza. Mentre per Fall Guys è da febbraio che non riceviamo notizie sullo stato del porting per Switch e Xbox che rimane comunque confermato in arrivo entro la fine del 2022 c'è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il destino di Genshin Impact lo Zelda preferito da 61 milioni di utenti al mese, a quanto pare. I sviluppatori e publisher del titolo, MiHoYo, hanno risposto alle richieste dei giornalisti di GoNintendo sullo stato della conversione rassicurando l'utenza Switch. Affermando, la conversione per Nintendo Switch è ancora in sviluppo e rilasceremo più informazioni strada facendo. Insomma, non cambia nulla ma almeno il progetto non è stato ancora abbandonato. Notizie decisamente meno rassicuranti, e ce ne vuole, per Monster Hunter Rise. È stato infatti confermato da Capcom sul sito ufficiale di Monster Hunter Rise che tutti i giocatori, dopo l'uscita di Sunbreak, dovranno scaricare una patch di 13 GB se vorranno continuare a giocare online. Il download sarà obbligatorio anche per chi non acquisterà il DLC. Considerando le dimensioni della memoria interna di Switch, questi 13 GB sono una bella mazzata quindi, fossi in voi, inizierei a fare spazio. Vi ricordo che l'uscita di Sunbreak è prevista per il 30 giugno, non manca molto. Dopo Microsoft, anche il buon Jeff Keighley ha iniziato a stilare il programma della sua Summer Game Fest. Senza disturbo dell'E3, l'evento organizzato e presentato da Keighley, giunto ormai alla sua terza edizione, sarà di sicuro una delle vetrine più importanti del periodo estivo. Il grande evento d'apertura è previsto per il 9 giugno alle ore 20 italiane. Un orario bello comodo, fortunatamente ben diverso dalle maratone notturne dei The Game Awards. Ovviamente questo sarà solo uno dei tanti eventi che seguiremo in live insieme. Dai su, iniziate a segnarvi tutti questi appuntamenti all'insegna della calda estate poraccia. Ma bene, passiamo alle notizie del giorno. Nintendo ha finalmente presentato il primo trailer di presentazione approfondita del gameplay di Battle League, il terzo episodio della serie Mario Strikers, ma per qualche strano e oscuro motivo il video è rimasto confinato al territorio giapponese. Cerchiamo quindi di capire più o meno quello che viene mostrato durante questi 5 minuti di gioco, e anche perché sono immersi degli elementi che hanno suscitato perplessità in molti utenti. Noto dall'equazione Switch Sports, possiamo finalmente concentrarci sul ritorno calcistico più atteso degli ultimi anni. Ne è passata di acqua sotto i ponti dall'uscita dell'episodio su Wii, ma la serie sembra aver mantenuto il suo stile inconfondibile. Un taglio decisamente aggressivo, quasi tendente al violento, tra molte virgolette, che stona in modo intrigante con l'art style che ci si aspetterebbe da una produzione con protagonista Mario. L'ossatura del gameplay sembra essere rimasta più o meno invariata, un calcio arcade 5 contro 5 completamente fuori dagli schemi, senza falli e pieno di mosse scorrette, e per ora l'unica innovazione radicale alle fondamenta del gameplay è quella di aver implementato la possibilità di spingere e fare i falli sui propri giocatori per aumentarne la velocità e proiettarli in porta. Sicuramente è una meccanica tattica che spingerà i giocatori più navigati a creare degli stili di gioco da veri pro, ottima anche la possibilità di personalizzare il proprio equipaggiamento per alterare le statistiche dei singoli protagonisti, e viene poi confermato anche un impianto di gioco votato principalmente al multiplayer, sia in locale che online, con la possibilità di formare dei club fino a 20 giocatori. C'è da dire che il ritmo di gioco sembra leggermente meno frenetico rispetto ai suoi predecessori, inoltre i campi da calcio sembrano molto più piccoli, non trovate? Comunque, quello che si è visto fino ad ora è parecchio incoraggiante, ma c'è un grosso ma. Battle League sembra essere carente in contenuti. Ad esempio l'idea di personalizzare l'equipaggiamento è chiaramente un ripiego per aver rimpiazzato il sistema degli assistenti e capitani con la presenza di soli 10 personaggi selezionabili, veramente pochi, e tra questi mancano alcuni volti iconici come Daisy e Bowser Jr. È vero, possiamo, anzi dobbiamo sperare, che ci sia ancora tanto da svelare del gioco e che Nintendo e Next Level Games stiano centellinando con il contagocce le informazioni su Battle League o che, alla peggio, personaggi e modalità vengano aggiunti in seguito, come DLC gratuiti. Il problema è che, visto come sono stati pubblicati i recenti sportivi in casa Nintendo, la situazione non è delle più incoraggianti. Mario Golf è stato pubblicato con tante lacune contenutistiche, mentre Switch Sports si è rivelato totalmente privo di una modalità single player. Una scelta veramente difficile da digerire, soprattutto se poi l'infrastruttura online non è delle più convincenti. Io do massima fiducia a Next Level Games e, quanto visto fino ad ora, mi fa ben sperare, però bisogna entrare nell'ottica che Nintendo i giochi online non li sa gestire e spero che Battle League venga presentato come un pacchetto completo e non come un buon titolo da aggiustare a forza di patch e DLC gratuiti, che tra l'altro non è detto che arriveranno. Secondo voi, Poracci, come andrà a finire? Intanto, ridendo e scherzando, tra una Steam Deck e un Gamecube, siamo quasi arrivati alla fine degli sconti action di primavera su eShop e io ancora non mi ho dato nemmeno un consiglio. Perdonatemi, sono stati giorni complicati, ma a questo punto direi che è arrivato il momento perfetto per darvi qualche utile trucco per gestire al meglio l'eShop. Visto che il problema dell'eShop, che è praticamente impossibile da navigare ed organizzare i propri acquisti, è un inferno, soprattutto quando ci sono queste offerte a tempo, il primo grandissimo consiglio che vi do è quello di utilizzare DekuDeals, una piattaforma che ho scoperto grazie alle vostre segnalazioni. Si tratta di uno strumento utilissimo che permette di leggere e organizzare a piacimento tutto il database dello store Nintendo, senza dover stare a combattere con l'interfaccia degli eShop. È utilissimo perché già col primo colpo d'occhio potete capire subito quali sono le migliori offerte, se i prezzi in sconto sono effettivamente i migliori di sempre, ovvero il lowest price ever, oppure se in passato ci sono state offerte migliori. È possibile vedere lo storico dei prezzi per farsi un'idea di quanto frequentemente ogni titolo va in sconto e affinare la propria ricerca secondo numerosi filtri come generi, numero di giocatori, lingue di gioco e anche punteggio Metacritic. Creando un account potrete poi gestire la vostra collezione e guardare anche le raccomandazioni del sito. Insomma, a me ha evitato tantissimi mal di testa derivati dagli scroll senza senso sull'eShop di Switch e visto che ci sono vi do il volo qualche nome da recuperare prima dell'otto. Non abbiamo mai visto Scott Pilgrim a un prezzo così basso, se vi piacciono i beat'em up a scorrimento è un acquisto obbligato. Gris è un cinematic platform che spesso vi consiglio e lo rifaccio soprattutto a questo prezzo. Death's Door invece è uno dei miei goti dell'anno scorso e la Castlevania Collection a questo prezzo è un vero affare. Tre capolavori GBA a meno di 5€ l'uno. Da avere assolutamente. Toem è invece nella mia watchlist ormai da tempo e poi per gli amanti delle avventure grafiche The Pony Collection a 4€. 4 giochi fuori di testa a un prezzo veramente poraccio. Straconsigliato. Vi chiudiamo la settimana con una notizia al volo, un messaggio di speranza per salutarci nel migliore dei modi. A quanto pare ci sono novità in arrivo per Final Fantasy XVI. A svelarlo è stato il producer del gioco, Naoki Yoshida. Durante una live stream crossover tra NieR Reincarnation e Final Fantasy XIV, Yoshida ha confermato che il titolo è prossimo al suo completamento e che presto sarà rilasciato un nuovo trailer di gioco. Ora, fermi tutti, so a cosa state pensando. Ma cos'è una crossover live stream? Questo non ve lo so dire, però intanto posso rispondere a un'altra domanda. Sì, penso proprio che avremo maggiore informazioni su Final Fantasy XVI durante il periodo estivo, probabilmente in un nuovo State of Play o magari un PlayStation Showcase. Non mi sembra vero che finalmente riusciremo a vedere la luce su uno dei progetti più attesi degli ultimi anni. Però, oh, Square, non fare scherzi, eh. Ultimamente non è che il publisher se la stia passando benissimo e dopo il mezzo disastro di Final Fantasy XV spero veramente che il suo successore abbia avuto uno sviluppo meno travagliato anche se i continui rimandi non fanno presagire a nulla di buono. Incrociamo le dita per Final Fantasy XVI e intanto ditemi, state aspettando con impazienza anche voi la nuova fantasia finale? Oppure dopo Stranger of Paradise nulla ha più senso in questa realtà dominata dal caos? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, noi ci rivediamo lunedì con un nuovo video, voi fate bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Strikers, Michele Gials, ciao! Ehi ehi ehi, fermo, se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Grazie a tutti! Grazie per la visione!